Mi è piaciuto il mashup? Ora è il momento di un video live preso direttamente dal tubo che io definirei veramente da panico. Stiamo parlando di Manuel De La Mare in un suo DJ set al Social Club di Los Angeles. Manuel è veramente un astro nascente di quella che la musica da club italiana è esportata nel mondo. Negli ultimi due anni lui ha prodotto veramente solo hit, gli sono arrivate svariate nomination agli award di Beatport e ha suonato nei club più importanti del mondo, proprio come questo al Social Club di Los Angeles. Grazie per la visione! No, 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 no! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.